Questo qua taglia le curve, non ha lo specchietto aperto, tutto bene No, non ha lo specchietto perché il vetro è saltato via Occhio che c'è il passaggio a livello Boh, si può passare? Sì, beh Controlliamo che non si sa mai che qua Passa solo il treno turistico, però è sempre meglio controllare Non c'era il semaforo rosso, non c'era neanche la sbarra Ok, qua in su verso Gairo Perché prima tappa andiamo a vedere Gairo Vecchia Che è un paese che è stato abbandonato in seguito a un alluvione Non mi ricordo che anni era, non mi pare anni 50, però vorrei dire una cazzata C'è stata un alluvione con conseguente frana, il paese è stato allagato E quindi l'hanno abbandonato e si sono spostati di 200 metri e hanno creato Gairo Nuova Di 200 metri? No, è vicinissimo, beh, 200 metri magari no, ma 500 forse Tra l'altro la cosa strana che ho visto da Maps è che praticamente Gairo, andatela a vedere Ha le strade, le case tutte parallele, cioè tutte allineate Sì, è vero Sembrano fatte un righello Eh, perché probabilmente avendo dovuto ricostruire tutti nello stesso momento Hanno costruito tutti insieme, tutti seguendo la strada Poi una strada dopo l'altra hanno fatto tutte le case perfettamente allineate Un rettilineo Bello il rettilineo, mi è piaciuto Occhio che qua vai a funghi dentro una foresta Madonna Comunque la strada è tanta roba, eh Tanta roba, sì Anche l'asfalto è comunque bello Sì, è vero È bella lontana Eh sì, è bella lontana Comunque fans, guidare senza lo zaino, cioè, proprio ti rivoluziona la vita Sì, bellissimo Tu che sei dietro, come le vedi? Sono su bene? Ondeggiano, ballano? No, sono ferme Questo qua taglia le curve Non ha lo specchietto aperto Tutto bene No, no, non ha lo specchietto perché il vetro è saltato via Wow Stai in mezzo Beh, anche se stessi a destra, tanto non riuscirei comunque a superare perché non ci vedo Qua ci vedo Io le macchine che non ti fanno passare, proprio io non le capisco Cioè, sono proprio delle bast... Qua si vede, vieni, vieni Vieni, vuota Via, io non capisco, cioè, boh Ma via, vuoi andare a 50 all'ora? Sulle strade di montagna? Vai, ma fammi passare Eh, ma in Italia non c'è la concezione Ma sai su TikTok quanti commenti ho letto che dicevano Ma perché mai mi dovrei spostare per farti passare? Eh, ma siete di... Invece no, proprio anzi, fanno apposta E leggendo i commenti la gente fa apposta, ne ho avuto la conferma A mettersi in mezzo per non farti passare Ma proprio la gente ti commenta così e dicendo Io mi metto in mezzo per non farvi passare Bravo, bravo Si vede che l'educazione civica proprio te l'hanno insegnata bene Via, complimenti Questa è l'invidia e la cattività della gente Boh, vabbè Comunque non ci roviniamo la giornata che guarda qua Che cielo azzurro, che curve belle Siamo a Gairo Ah, siamo arrivati a Gairo Guarda che da qua si vede che le case sono tutte allineate Adesso siamo arrivati a Gairo Andremo a cercare di vedere Gairo Vecchia E che cos'è, che cos'è, che cos'è È un senso unico Stiamo scendendo Immagino che la frana possa essere scesa anche da qua Immagino, eh, non lo so Può essere perché ho messo tutte le reti Mi sembra bella scoscesa la montagna, tra l'altro Comunque è figa la Sardegna Ha il mare e le montagne Ah, guarda, il Gairo Vecchio Ah, guarda qua le case distrutte È spettrale, eh Sì, anche pericoloso da passarci Questa sia molto stabile Ah, guarda là su tutte le case Ah, sì Bene fans, abbiamo preso la stradina che scende giù per Gairo Vecchia Sì, quando mi ricapita di bucare la gomma Dai Luna, non essere disfattista L'abbiamo fatto anche ai laghi di Canca Non è successo niente, su Flashback L'aria è proprio sterrato Qua, comunque c'è l'asfalto Enduro prepotente Enduro, la gara è ovecchia Porca vacca Immaginati chi viveva qua quando è venuto giù l'alluvione Mi fermo qua all'inizio della via che si vede onde ho tutte le case Mettila di fianco alla mia Vieni qua Bene fans, siamo arrivati a Gairo Vecchia È veramente spettrale Nel senso che fa abbastanza impressione vedere tutte le case Che una volta erano il paese Distrutte Distrutte, senza tetti Alcune senza le mura Qualche casa è proprio stata trasportata via dal fiume Abbiamo fatto qualche foto Adesso giro la fotocamera dell'iPhone E faccio qualche ripresa qua in paese Per farvi vedere bene com'è Soprattutto il nucleo più grosso del paese Mi sa che è più sotto qua C'è una specie di tetto di una vecchia casa Da cui si vede giù E salgo lì e vi faccio vedere sotto Vuoi venire anche tu? O fai la guardia delle moto? No, no Io guardare giù non mi fido Ok Fai la guardia delle moto? Sì Stai attento Comunque abbiamo percorso questa strada Che arriva dalla provinciale Anzi dalla statale in realtà Adesso siamo parcheggiati qua Siamo andati fino all'infondo E poi siamo tornati indietro Perché c'era pieno di vespe Adesso da qua sotto Si vede giù Ecco pensate che una volta Lì ci abitavano Parecchie centinaia di persone anche Quella è la parte più esterna del paese Completamente abbandonata e distrutta Senti che bella rietta Sei pronta? Guarda che c'è questo muro Che sta in pendenza Perché è tutto crepato nell'angolo Eh sì Presto verrà giù Andiamo mi sto squagliando Sì sì Tutto acceso? Sì Ovvio è che c'è il pick up Che schifo C'è una chimice sulla mia moto Ripartiamo Piacevolissimi 35 gradi Andiamo Andiamo Che ci stiamo abbastanza squagliando Beh è stata una roba Particolare da vedere Che se non fossimo venuti oggi Probabilmente non avremmo visto mai C'è una piena di piante di fichi Sì Madonna quante vespe Ma sai perché? Perché i fichi sono dolci Le attirano Sì Madonna Quindi là è buono Aspetta 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 Te lo dico io Vieni Non c'è nessuno Bene fans Siamo usciti dalla stradina Adesso torniamo sulla statale Direzione cascata di Le Quarci Diciamo che Fermarsi così A fare le foto eccetera Cioè finché si va Si sta bene Appena ti fermi Devastante Luna Come ti è sembrato in generale? E quando ti fermi Muori No ma di quel paese Come No vabbè è interessante Cioè vabbè è interessante Non ci niente da vedere A parte le case distrutte Però vabbè È una cosa È un pezzo di storia di Sardegna Un pezzo di storia Sì Vai Luna Se ti metti in posa Ti faccio qualche foto Da professionista Ah ok Cioè nel senso che Tu saresti la professionista Ah va bene Io sono quello che fa le foto Alla professionista Ok Ciao dammi la bustina E mettiti in posizione Sì mi ha spesso Un attimo Posizione prona O supina No Supino o supina Supino Supino Suino Suino Suina Beh magari un po' suina Come posa ci potrebbe stare Suina